Il calcio non solo cambia in continuazione, una volta si diceva che ogni 5-10 anni cambiava il modo di lavorare, adesso qui se non sei al passo ogni 6 mesi ci sono metodologie e modi di lavorare diversi. Per far sì che il nostro calcio, parlo a livello nazionale e soprattutto internazionale, possa ritrovare la solidità e l'appartenenza per quello che ci spetta perché comunque siamo sempre l'Italia, anche se siamo in un periodo non molto favorevole dobbiamo cercare di ricreare il sistema Italia in un palcoscenico molto importante. Quindi l'obiettivo è quello di proporre giocatori nuovi alla Nazionale A. Lo sguardo al calcio calabrese lei lo dà ogni tanto? Diamo lo sguardo a tutto quanto, guardiamo molto, anche se magari non ci sono moltissime squadre, diciamo che ce ne sono molte, una su tutte il Crotone che sta facendo la storia e quest'anno e negli ultimi anni, visto che i giovani sono usciti da questa società. Quindi tante squadre facciamo un grandissimo bocca al lupo come per esempio la Regina e la Vigor, la Mezzia e insomma il Cosenza che sta ritrovando quello che poi è stato in passato. Il Caranzaro sta facendo un discreto campionato quindi seguiamo tutto, siamo vigili su tutto quanto. Il Caranzaro sta facendo un discreto campionato.